La prima pietra della riforma fiscale è stata posata, una nuova IRPEF con tre aliquote e IVA azzerata per i beni di prima necessità, ma anche sanzioni penali attenuate per i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare. Uno sconto che include anche le imprese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge della Lega Fiscale che farà da cornice alla riforma delle tasse targata centrodestra. E per un fisco più comprensibile. Provvedimenti di semplificazione come l'abolizione delle microtasse, come l'eliminazione del doppio binario civilistico e fiscale nella determinazione del reddito d'impresa. Insomma c'è tanto e siamo lieti di aver potuto contribuire a un provvedimento che pensiamo possa migliorare la vita dei contribuenti e rendere il sistema paese più attrattivo per gli investitori. Ci sono le risorse? C'è nessun gesto irresponsabile, nessuna fuga in avanti, nessun rischio per i conti pubblici, c'è un approccio pragmatico. Naturalmente la legge delega che cosa fa? Conferisce al governo il potere di emanare dei decreti, quindi l'entità effettiva della copertura potrà essere stabilita solo quando ci sarà la concretezza della norma, ci sarà l'effettivo decreto, ma la delega prevede attraverso una clausola di salvaguardia ben costruita che qualora dei provvedimenti prevedano nuovi oneri, si trovi all'interno del complesso della riforma, si trovino le risorse attraverso quelle norme che invece portano gettito. Qualche critica riguarda questa legge delega riferita alle misure più contenute per chi evade il fisco per necessità, cosa risponde? Gli italiani hanno dato al centro-destra un mandato non a favorire l'evasione, ma a combattere l'evasione in un modo diverso, combattere l'evasione innanzitutto facilitando l'adempimento e questo nella riforma c'è, perché c'è sia una semplificazione della giungla delle norme fiscali e poi anche nell'istituzione di strumenti di adempimento collaborativo, dove il fisco e impresa si parlano prima e per un periodo di tempo decidono l'entità dell'imposta che è ragionevole che l'impresa versi in base al reddito che è ragionevole presumere che generi e in questo modo si evitano una serie di appesantimenti della vita dell'impresa e anche di appesantimenti della vita della gente della riscossione affinché ci si possa concentrare sull'evasione effettivamente importante e pesante quella di magari contesti aziendali o di contesti anche multinazionali dove bisogna effettivamente incidere concentrando lì le risorse senza invece vessare il cittadino.